Buonasera e bentrovati ad una nuova edizione del telegiornale di Rieti Life, tutta l'informazione di Rieti e Provincia su RietiLife.com, Facebook ed Instagram. All'indomani del tentativo di fuga del detenuto dal Tribunale di Rieti dove si trovava in udienza, una delle agenti penitenziarie di Rieti ha voluto ringraziare tramite una lettera inviata a RietiLife colleghi poliziotti e carabinieri che ieri hanno scongiurato l'evasione del detenuto, un lavoro di squadra senza il quale non saremmo riusciti a riprendere l'uomo del quale inizialmente si erano perse le tracce. A tutta la squadra mobile di Rieti e a tutto il comando dei carabinieri va tutta la mia gratitudine, ma anche a tutti i colleghi della polizia penitenziaria del carcere di Rieti che da subito si sono attivati in supporto, scrive l'agente. I carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto sono intervenuti nella prima mattinata di lunedì 22 gennaio portando in salvo un uomo di 55 anni bloccato all'interno di un'abitazione in fiamme a Scandriglia, un intervento tempestivo, quello dei carabinieri che ha scongiurato il peggio. Nella scorsa notte, sempre nella zona di Scandriglia, i militari sono stati impegnati nell'inseguimento di un uomo che durante la notte si era reso protagonista del furto di denaro, seppur di somme esigue, di un distributore di bevande. Abbandonata l'auto, il ma vivente si è dato alla fuga tra i boschi e sono tuttora in corso le ricerche. Vigili del fuoco al lavoro per buona parte del pomeriggio per mettere in sicurezza un'auto elettrica andata a fuoco nel quartiere di Madonna del Cuore. L'incendio, divampato per cause da accertare, ha richiesto particolari procedure proprio per l'alimentazione elettrica della vettura. Ha destato scalpore tanti commenti sui social l'annuncio diffuso nella serata di ieri della pubblicazione di un bando da parte del Comune di Rieti per la selezione di uno specialista dei rapporti con i media. Si tratta di un inserimento tramite concorso previsto dal piano di assunzioni del Comune di Rieti che comporterà un costo per la figura inserita di circa 35 mila euro. Polemica innescata anche alla luce delle precedenti quattro assunzioni nel settore comunicazione dell'ente per 500 mila euro. Restiamo in tema di amministrazione comunale con mezz'ora in comune, la rubrica di Rieti Live TV che torna stasera con l'assessore ai lavori pubblici Claudia Chiarinelli. Che parlerà di rivoluzione urbanistica, che attende il centro storico, di grandi investimenti del PNRR e tanti altri temi. Tutti affrontati col vice direttore di Rieti Live, Cristian Diociaiuti. Tutta la puntata sarà disponibile su Rieti Live TV, Facebook ed Instagram. Breve spazio dedicato allo sport col match che si sta disputando in questi minuti tra NPC e Omenia. Match salvezza per gli amaranto celesti che sono in cerca di riscatto e orfani di Roderick infortunato. Tutti gli aggiornamenti su rietilife.com Ed era questa l'ultima notizia di questa edizione del telegiornale di Rieti Live che torna domani alle 20.45 su rietilife.com, Facebook ed Instagram. Buona serata. Buona serata. Grazie a tutti.